Non preoccupatevi più se piove improvvisamente, se vi capita una contrarietà improvvisa, se un amico vi fa festa, se viaggiando amate rilassarvi. Anche in viaggio la vostra sicurezza e faci strave l'intera italiana. Sicurezza di qualità, sicurezza di eleganza, sicurezza di ingualcibilità e antimacchia. Facis Travel in terra italiana e l'abito fatto per viaggiare. Facis Travel a lire 36.000 lire 38.000. Sì, la mia sicurezza è Facis.